Ciao a tutti video acquisti. In questi giorni sono andata da Acqua e Sapone e ho preso delle cose in sconto. Cercavo qualcosina che avevo bisogno e ho visto poi che ci sono anche parecchi prodotti. Allora vi faccio vedere subito cosa ho preso. Prima vi volevo far vedere il trucco occhi che ho fatto oggi. Una ragazza mi ha chiesto se potevo fare qualche video con qualche trucco delle palette del Lidl, però sicuramente non riuscirò a farlo e vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Allora ho utilizzato questa palette qua, Nude Eyes. Dunque sulla palpebra mobile ho utilizzato questo colore qui, Cappuccino. Chissà se si vede. Molto molto carino. E poi sulla piega dell'occhio sono andata a sfumare con questo marrone più scuro e sempre con questo colore sono andata a metterlo anche sotto la rima interna, sempre con questo marrone. E poi vicino al condotto lacrimale sono andata ad illuminare con questo colore rosa sheer. Sì. Che qui dalla videocamera sembra quasi un bianco, ma è un rosa chiaro. Molto molto carino. E basta. Comunque queste palettine sono carinissime. Sì. Gli ombretti sono leggermente polverosi, però insomma sono molto molto carine. Durano anche. Allora passiamo agli acquisti che ho fatto da acqua e sapone. Dunque, intanto qui c'è lo scontrino. Ho preso, visto che erano in offerta e che io prendo sempre, perché mi piacciono. Allora, questi due detergenti intimi della Neotrumber, questi sono delicatezza, pagati di 99 centesimi. A me piacciono tantissimo. Sono delicati e c'erano anche altri tipi. Cercavo anche quello legnitivo, però non l'ho trovato e ho preso due di questi. Poi, sempre della Neotromed, ho voluto prendere questo doccia più intimo, che per me è nuovo perché non l'ho mai visto. Ho visto anche che ha degli ingredienti abbastanza buoni, almeno così mi sembra di aver capito. anche questo era in offerta, 99 centesimi. Poi, ho preso anche, anche questa era in offerta, era un po' che volevo prenderlo, però ne avevo altri da finire e, visto che era in offerta, ho preso questo tonico riso dolcente, in Provenzali, che ho pagato, allora, 2,49 euro. E c'erano poi anche altri prodotti, sempre di questa linea. Io ho già il contorno occhi, che mi piace, mi sto trovando bene, che tra l'altro sto anche finendo, forse, ma avrei potuto prenderlo. E erano tutti in offerta. Poi, ho voluto prendere, perché mi serviva, questa spugnetta. Questa non era in offerta e l'ho pagata 1,90 euro. La voglio utilizzare per il fondotinta. E poi, ho voluto prendere il mio profumo di borotalco, che avevo finito. E niente, mi piace, lo adoro. Siccome qui costa leggermente di meno, perché costa 8,90 euro, al S lungo, mi sembra che costi sui 10 euro. E' buonissimo. E' fresco. E ogni tanto io me lo spruzzo, così più volte nella giornata. E' buonissimo. E adesso che ho scoperto che costa un po' di meno qui d'acqua e sapone, lo prenderò sempre qua. A meno che, a Messe Lunga, non lo mettono in offerta. Poi, ho preso dei prodotti nuovi, almeno. Per me sono nuovi, perché io non l'ho mai visti. Sì, sono quattro, questi quattro pezzi. Ce n'erano tantissimi, però un po' non sapevo come erano gli ingredienti, non avendoli mai presi. E ho preso un po' così. Questa è una linea, dunque si chiama Himalaya, ed è una linea naturale. Allora ho preso questo detergente schiuma viso, al nem purificante. Questo è per pelle normale grassa. E l'ho pagato, dunque scontato 3,14 euro. Speriamo che sia buono. Vediamo. Poi ho voluto prendere, che avevo già provato ad aprire, poi adesso magari lo apro, questo lip balm. Dunque anche questo scontato. 1,39 euro. Questo è degli ingredienti buonissimi. L'inch è tutto verde. Sono degli ottimi ingredienti, veramente. Adesso continuo ad aprirlo, perché avevo iniziato ad aprirlo. Poi, siccome era tardi, l'ho lasciato stare. Allora, dunque questo è il lip balm. È di 4,5 grammi. Questo è il basso labbra. È leggermente profumato. Boh, sa di frutta. Profuma di frutta. Poi lo proverò. Speriamo che idrati bene le labbra, perché questo prezzo ha degli ottimi ingredienti. Se mi piace, ne andrò a comprare altri. Poi ho preso ancora questo dentifricio, sempre di limaia. Questo dentifricio è da 75 ml. e l'ho pagato 1,74 euro. Anche questo scontato in offerta. Anche questo dovrebbe essere buono. degli ingredienti. Mi sembra che sia buono anche questo. E poi, per ultimo, ho preso, sempre di questa marca Himalaya, questa maschera purificante al NEM. E sono due dosi, sì. Due dosi da 7,5 ml. E l'ho pagato 90 centesimi. E basta. Questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto da acqua e sapone. Fatemi sapere se avete preso anche voi qualcosa. Vedo che ci sono dei buoni prezzi. Qui c'erano anche altri prodotti, però non mi serviva nient'altro. Però c'erano dei ottimi prezzi. Spero che il video vi sia stato un pochettino utile. E se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!